buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso oggi vi parlo del cavolo nero di toscana questo è un ortaggio invernale veramente eccezionale se avete poco spazio nell'orto un paio di queste piante vi possono risolvere un problema grosso che è quello dell'approvvigionamento periodico di un qualcosa di buono veramente buono da mangiare e che si presta veramente a un sacco di ricette su questo noi in italia non ci batte nessuno allora ve ne parlo dopo la sigla allora il cavolo nero di toscana questa è una pianta che appartiene alla famiglia delle crucifere è una pianta molto rustica occorrono poche cure ma importanti per farla venire su bene adesso cominciamo a vedere innanzitutto il periodo di semina allora la semina si può fare in semenzaio in estate e si possono trapiantare le piantine a settembre vi lascio qui il calendario di semina che lo trovate anche sul blog visto che una pianta abbastanza esigente in termini di concimazione il terreno ideale guardate dopo ve ne parlo ecco qui la colpevole terreno ideale di questo ortaggio è un terreno sciolto non ha meri stagni idrici ed è ricco di sostanza organica quindi va interrato qualche settimana prima del compost maturo o dello stallatico pellettato dello stallatico maturo la cosa migliore sarebbe del composto il lombrico se ce l'avete e una volta messa a dimora va fatto un minimo di pacciamatura io qui l'avevo già fatta vedete queste paglia che ho messo ormai sarà un mesetto fa adesso rifaccio la pacciamatura con della paglia nuova il sesto di impianto prevede 50 centimetri tra le piantine circa un metro tra le file e una pianta si sviluppa in altezza arriva anche un metro di altezza buono buono resiste moltissimo al freddo questa arriva fino a meno 10 non soffre ha una sorta di patina impermeabile sulle foglie quindi l'acqua forma delle gocce vi scorre sopra quindi non assorbe umidità è una pianta veramente incredibile perché a differenza degli altri cavoli quelli che coltiviamo normalmente in inverno questa non forma una palla cavolfiore la verza e quant'altro ma si raccolgono e si mangiano semplicemente le foglie si raccolgono dal basso ne tolgo via un paio perché è ora per me di cominciare a raccoglierle non sono belle ma sono di un buono con queste ci si fa alla ribollita si possono far saltare in padella e aggiungere due salsicce tagliate si possono fare con i fagioli è una pianta veramente invernale dà un gusto eccezionale a tutte le pietanze il colore verde che vedete verde scuro è perché ricca di clorofilla e contiene veramente un sacco di vitamine sali minerali e quant'altro è una pianta che non può mancare nell'orto vi dicevo se avete un orto piccolino con due tre di queste si raccolgono le foglie scalare e potete veramente fare la differenza e cominciare a mangiare qualcosa di sano giorno per giorno visto che ha una crescita abbastanza sostenuta io negli anni scorsi sono riuscito anche a portarmene da un anno all'altro soffrono il caldo ovviamente ma se riuscite a ombreggiarle d'estate non c'è un caldo torrido come abbiamo avuto quest'anno con buone probabilità questa passa l'estate e arriva all'inverno dopo poi si dà una potata e le riparte dunque malattie importanti questa soffre di peronospora soprattutto e oidio ma io fino adesso non ho avuto quel tipo di attacchi ciò che mi ha dato veramente fastidio ecco guardate sono le lumache vedete come riducono le prime foglie poi ho messo del ferramol in punti strategici ho risolto un po il problema tanto è vero che le altre foglie vedete non sono state toccate ora rifaccio un altro trattamento col ferramol perché ho visto una lumachina ve l'ho fatta vedere prima per chi non l'avesse visto gli altri video perché uso il ferramol perché è un fosfato ferrico naturale presente in natura solo che in concentrazioni maggiori le lumache vengono attratte e muoiono purtroppo però non è un lumachicida chimico non è mortale per gli altri animali domestici cani e gatti che potrebbero mangiarlo e anche gli uccellini quindi è selettivo colpisce soltanto le lumache ecco guardate questa foglia come le riducono in un giro di pochi giorni allora la pianta tende a sedersi e a piegarsi per ovviare questo problema si possono infilare delle canne nel terreno tenerla alta così sia anche il vantaggio che le foglie non toccano per terra il terreno deve essere sempre umido non bagnato e non asciutto umido adesso vediamo sotto la pacciamatura che terreno troviamo ecco qua questo è quello che ho tagliato prima ecco qui vedete avevo messo della segatura di legna legna vergine contro le lumache qualcosa ha fatto ma per i miracoli bisogna rivolgersi altrove allora il terreno è abbastanza asciutto quindi adesso io metto la pacciamatura avvio l'irrigazione a goccia e do un po di acqua questa povere piante io uso della semplice paglia l'ho trovata finalmente qui vicino a un prezzo onesto 2 euro a balletta allora è bello la pacciamatura che mantiene l'umidità nel terreno e non fa crescere infestanti la cosa negativa è che purtroppo vi si annidano le lumache e altri parassiti e quindi è una lotta continua però d'altronde se vogliamo far biologico questo lo dobbiamo mettere in conto voilà il cavolo nero non può mancare sulle nostre tavole come dicevo è un ortaggio eccezionale se le condizioni sono corrette lui continua a rigettare rigettare tirare fuori nuove foglie e lo possiamo cucinare veramente in mille modi diversi spero che questo video vi sia stato utile siamo a ottobre se non avete fatto la semina potete comprare le piantine il clima è buono la pianta parte subito se ci sono le condizioni ideali non fa troppo freddo non fa troppo caldo e il suo periodo quindi se volete iniziare adesso la coltivazione siete leggermente in ritardo perché andrebbe messo giù a settembre ma se il clima tiene siete ancora in tempo a provare a coltivare questa pianta eccezionale spero che questo video vi sia stato utile vi ringrazio per essere stati con me anche oggi se vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella vi auguro una buona giornata ci vediamo la settimana prossima